L'Arcivescovo di Taranto, Monsignor Benigno Papa, ha deciso di festeggiare i suoi 75 anni con i giovani dell'Arcidiocesi, partendo con loro alla volta di Assisi. Sono circa 550 i ragazzi che questa mattina sono partiti dalla Chiesa Santa Rita per un pellegrinaggio dal forte valore simbolico che rappresenta una sorta di consegna paterna da parte del Vescovo verso i giovani. Il gruppo è diretto verso i luoghi di San Francesco e Santa Chiara. Maestro, dove abiti? Venite e vedrete. È la traccia che guida questo pellegrinaggio. Dove incontrare Gesù? È possibile stare con lui nella società tecnologica? Come scoprire la propria vita come vocazione? E Francesco è ancora un maestro di vita dello spirito per i giovani? Sono queste le domande che scandiranno le tappe del pellegrinaggio. I ragazzi saranno affiancati da una pattuglia di frati, capeggiata da Antonello Fanelli, responsabile della pastorale giovanile vocazionale dei frati conventuali. Al monastero di Santa Chiara i ragazzi potranno parlare, stando oltre la grata, con suora Clarissa. Sabato mattina poi i ragazzi incontreranno il Vescovo di Assisi, Monsignor Domenico Sorrentino.